Ciao bambini, con questo video vorrei introdurre un nuovo argomento di scienze che riguarda gli animali. Come sapete gli animali sono tantissimi, hanno forme, dimensioni e comportamenti molto diversi. Gli studiosi li hanno classificati in base alle caratteristiche che possiedono. Adesso proveremo a vedere insieme le classificazioni e a capire quali caratteristiche li contraddistinguono. Siete pronti? Cominciamo! Le famiglie degli animali che studieremo sono sei. Pesci, anfibi, rettili, mammiferi, uccelli e insetti. I primi animali di cui ci occupiamo sono i pesci. Sapete bambini che vivono in acqua dolce oppure salata, che si muovono nuotando grazie alla coda e alle loro pinne. Respirano con le branchie e nascono dalle uova. Vediamo adesso gli anfibi. Gli anfibi sono degli animali molto particolari. Sapete perché? Perché possono vivere sia in acqua sia sulla terra ferma. Hanno quattro zampe. Respirano con i polmoni o attraverso la pelle e nascono anche loro come i pesci dalle uova. Un esempio di anfibio molto famoso è la rana. Dopo gli anfibi è il turno dei rettili. Loro vivono sia sulla terra ferma che in acqua. Molti di loro si spostano strisciando. Sapete perché? Perché non hanno zampe. Respirano con i polmoni e nascono dalle uova. A questo punto possiamo parlare dei mammiferi. Anche l'uomo è un mammifero e rientra in questa categoria. I mammiferi vivono per lo più sulla terra ferma. Ce ne sono alcuni che vivono nel cielo come per esempio il pipistrello e alcuni addirittura vivono nel mare, per esempio la balena o il delfino. Sono mammiferi, anche loro, anche se può sembrarvi strano. I mammiferi possono camminare, correre, saltare. Respirano con i polmoni. Nascono non dalle uova ma dal corpo della madre e vengono allattati dalle mammelle. Ecco perché si chiamano mammiferi. Gli uccelli vivono sulla terra ferma, in particolare in cielo. Si spostano volando, infatti possiedono le ali. Hanno due sole zampe e il loro corpo, lo sapete, è ricoperto da piume e penne. Respirano con i polmoni e anche gli uccellini depongono le uova. Gli ultimi animali di cui ci occupiamo sono gli insetti. Gli insetti hanno addirittura sei zampe e il loro corpo, se lo osservate bene, è diviso in tre parti. Molti insetti hanno le ali e possono volare. Nascono dalle uova e respirano attraverso dei piccoli tubicini.